E arriva anche lei, insomma il nastro aiuta la saugella Segura Partegno sbaglia completamente a ricezione Partegno sbaglia, Segura forza il servizio e trova la zona di conflitto tra Partegno e Silla Tutti in silenzio, i servizi di Segura hanno fatto malissimo e anche questa volta fa male, arriva l'Ace Partegno sbaglia completamente a ricezione